ciao ragazzi buon pomeriggio un saluto dal tarfone allora come molti di voi avranno sicuramente visto nel video annuncio di questo pomeriggio dove abbiamo fatto vedere il palinsesto del canale fino al 24 oggi cominciamo con la prima battaglia ok con in mano la immortal alcune fazioni non ve le possiamo far vedere per cui non chiedetecele diciamo che possiamo farvi vedere le fazioni di warhammer 1 2 3 più gli ogre ok quelle nuove al momento non possiamo ancora farvele vedere non possiamo farvi vedere la creazione degli eserciti ma solo le battaglie al momento portate pazienza come avete visto dal palinsesto più avanti andremo a sbloccare varie cose che possiamo farvi vedere scaduti termini di embargo ok ma se avete domande dubbi pubblicità curiosità scriveteci sotto nei commenti in base alla data o altro noi vi risponderemo magari raccoglieremo anche le domande vi faremo un video apposta ok vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per ricevere gli annunci e se il video vi è piaciuto lasciare un like per aiutarci per il resto ragazzi vado a fare questa battaglia sono con corn ovviamente soldi limitati giusto per farvi vedere le unità e quanto fighe sono ok sono quasi praticamente tutte end level sono bellissime e fighissime se voi volete vedere qualche fazione in particolare giocata ovviamente nel limite del possibile vi ricordo o vedere macellata qualche fazione tipo non so gli elfi potrebbe essere molto interessante scrivetemelo nei commenti e in questi giorni io e max o comunque io nel fare i video cercheremo di organizzarci incredibilmente solo contro i miei nani lo so che sembra una cosa incredibile ma sono contro i miei nani ragazzi questo esercito qua è pensato per andare contro i nani sappiatelo per cui i nani renderanno le peggio batoste possibili immaginabili ovviamente non è OP eh ma comunque anche lui i suoi limiti e tutto quello che ne consegue di questa cosa qua che va avanti da solo per i cazzi suoi che deve stare qua dietro o questo che è un cannone che dovrebbe stare qua questo va in cui va per i cazzi suoi ah questo c'ha un bel po' di HP ah scusate che devo togliere questo vabbè scarbrandino vai scarbrandino che andiamo a divertirsi tutti quanti assieme appassionatamente vabbè quello no vabbè si sta già riprendendo tu vai qua dietro che è la macchina del sangue ci sono un hub a fare queste cose però vabbè ci sta ovviamente i miei assetati di sangue sono stati direttamente sulla loro artiglieria e qua arriva scarbrand che fa macelli questi li arriviamo da dietro proprio facciamo flambe scusate ragazzi se ogni tanto sentite uno sfrigolio strano ok ma purtroppo ogni tanto ho l'audio di gioco che sfarfalla vi chiedo scusa guardate pazienza però guarda che bello però faccio vedere meglio ah le risoluzioni sono a medio eh io qua c'è gente ferma deve fare il suo lavoro e non lo sta facendo ah anche loro avevano soldi a manetta ragazzi diciamo che ce la giochiamo molto alla pari eh vabbè morto distruggilo non c'è tuve sai the exile one vai distruggilo povero bella l'acqua 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 notare il dettaglio del campanaccio vabhe eeeh niente ragazzi questo sarà un video giusto per farvi compagnia o ok farvi vedere un pò di macelli è solo un assaggio ok è solo un assaggio è l'inizio di tutto per cui restate sintonizzati sul canale ragazzi seguite i vari annunci, i vari video le varie live che verranno nei prossimi giorni e dal Tarfone è tutto, un salutone alla prossima, ciao belli